Gira la ruota, gira la A, avanti il prossimo, altro giro, altro regalo, insomma le formule sono tantissime, ben ritrovati, commentate i numerosi, lasciate un like, iscrivetevi, notizie assurde, il Milan perde a lungo Okafor, un mesetto almeno, Pobega un mese e mezzo, barra 4 se deve essere operato, perché c'è una lesione che interessa anche il tendine del retto femorale che si inserisce nell'anca sinistra, quindi un disastro per lui, Okafor altro che crampi, anche lui lesione di un muscolo flessore profondo, il semi ben branoso, quindi anche lui lesione, un'altra dopo che era appena rientrato ha fatto due, neanche mezze partite, un quarto d'ora una volta, dieci minuti l'altra e si è fatto male, situazione incredibile, però finché riguarda uno dici vabbè sarà fragile, ma qui riguarda tutti, soltanto sette giocatori di cui credo sei di movimento non si sono mai fatti male al Milan. Situazione incredibile, imbarazzante e Pio a Liri dice si gioca troppo e fa l'esempio del Newcastle, ma bisogna fare esempi virtuosi di chi gioca tanto, troppo, ma non si fanno male, non bisogna guardare chi è nelle tue stesse condizioni per tirare acqua al tuo mulino. Tirare le scuse non va bene, tirar fuori le scuse, vale per tutti che si gioca troppo. Mentre Mila recupera Sportiello e Pellegrino, però, situazione che è diventata, ripeto, imbarazzante e avanti altri due, non solo si fanno male tanti, si rifanno male, ma sono anche infortuni molto seri, cioè ciao diversi mesi, caluro diversi mesi operato, pobega a rischio l'operazione, non si può più andare avanti così. E' lì da vedere, altro giro, altro regalo, ogni partita due, non ho mai visto una cosa del genere. E' la prima volta nella storia del calcio, che conosco io, che succede una cosa del genere. Ripeto, sono altri due infortuni e la situazione è gravissima. Ditemi che ne pensate, scatenatevi con i commenti, lasciate un like e iscrivetevi qui numerosissimi, mi raccomando. Vi mando un abbraccio, a presto per altri aggiornamenti. Va bene? Ciao a tutti!